Senti qua Michele, io ho le ossa rotte perché sono tornato a giocare a tennis e sono un cattorcio che deve rimettersi in forma e io oggi non ho avuto le forze psicofisiche per preparare una puntata e quindi sfruttiamo un po' il fatto che ci sono, quanti sono? Sono tipo ormai 666 spettatori, peraltro numero che mi sembra proprio perfetto, per rispondere a qualche domanda, cosa dici? Va benissimo, speriamo non ci diavolizzino, se non ho ancora domanda 666, il numero della bestia, siamo due bestie, Michele siamo due bestie Peraltro poi devo dire che negli unici momenti in cui mi sono detto ma di cosa è che parliamo oggi con Michele, c'è una caterva di temi perché c'è quella proposta di legge e c'è dall'altra parte la lotta fra Salvini e Letta e poi nel mondo c'è quello che sta succedendo e poi i vaccini, quindi mi sono detto ma io non ho voglia di scegliere, facciamo scegliere il pubblico con le domande, che dici Fede, anche tu sei d'accordo? Sono già belli carichi Molto bene, molto bene, e allora se Mike è pronto, non so, sei pronto Mike? Prontissimo Prontissimo, e allora partiamo con la prima domanda Che la fa Deviart e vi chiede, oggi c'è stata una polemica sul decreto semplificazioni ad appalti in cui i sindacati hanno alzato le barricate Con Liberi Oltre avete pensato di fare una live in merito? O comunque discuterne? Non ho capito su cosa Decreto semplificazioni Esatto Cosa? Ad appalti in cui i sindacati hanno alzato le barricate Sicuramente è legato al fatto Come faccio a rispondere a una frase così? Sicuramente è legato al fatto, guarda adesso vado a dare un'occhiata, però è sicuramente legato al fatto della riforma della giustizia e del fatto che ci saranno delle semplificazioni Fatevi vedere cos'è, perché detta così la notizia, boh, è la solita cosa che per dare gli appalti hanno tolto le varie restrizioni Guardate, forse è quello, non lo so, però è inutile che mi metta a parlare di una cosa che... Vado a vedere la notizia, vediamo appalti, sindacati, governo, semplificazioni, vediamo cosa viene fuori Se no, se volete possiamo passare oltre Beh intanto finché L'ascoltatore ci spiega esattamente Esatto, eventualmente quando avete una notizia da darci, mandateci anche un link Cercate di liberalizzare, sì, in effetti in Italia il meccanismo degli apparti nella follia Sì, vedo già, PD che dice che il ritorno del massimo ribasso si apre alle mafie Allora guardate L'Italia e tutto un mondo di sinistra pensa che il PD di questa roba è la prova della sua continua ormai compiuta casaleggizzazione Ormai il PD è il vero partito della casaleggio L'unica differenza è che gli iscritti li controllano il PD e non la casaleggio stessa Ma ideologicamente è la stessa cosa Allora, c'è un mito italiano che viene dal vostro cattolicesimo e dalla vostra inciviltà e dalla vostra ignoranza Di cui letta un perfetto rappresentante assieme ai suoi soci Saro Duro Ed è il seguente E cioè che esista la differenza fra onesti e disonesti E che questa differenza sia inattaccabile o no I gradi di onestà sono i soggettivi, non siamo tutti uguali, questo è vero Non siamo tutti uguali C'è chi è spontaneamente disonesto, chi lo è meno, chi lo è meno, chi è spontaneamente molto più onesto Però tutti rispondiamo a incentivi E quando un sistema come quello italiano la disonestà diventa di massa C'è il pensare di risolverlo Aggiungendo livelli e livelli e livelli di burocrazia, di controllo e di documentazione Fornisce semplicemente a tutti coloro che gestiscono gli stati intermedi di queste procedure di pseudocontrollo Occasioni per essere disonesti Avallato però ovviamente dal sistema burocratico che poi rende anche difficile individuale E' una maniera di essere disonesti e anche non fare il proprio lavoro Una maniera molto grave di essere disonesti è che quando non c'hai un ricavo monetario Dal fare la pratica, dal fare il controllo in tempo debito e rapido Sai cosa? Dici si è di sopra Tanto non mi cazzo me ne frega Non mi ha niente, fa settimana che viene E siccome ci sono otto livelli In ognuno viene rimandato di tre settimane Tre per otto fa ventiquattro E' passato quasi mezzo anno Così funziona Meccanismo degli appalti è una follia di questo tipo Perché anche per appalti minimi Si richiede un tale investimento In certificare che non sei mafioso Tale che moltissimi rinunciano E che comunque dura quantità di tempo infinito Ci sono altri problemi a mio avviso Tra l'altro quello del fatto che si danno lotti minimi troppi piccoli Questo è fatto apposta per mantenere in piedi imprese Specialmente al settore edilizio Assolutamente inefficienti e piccolissime Che dovrebbero chiudere e essere assorbite da imprese grandi So che tutto questo a voi suona liberista Invece non cazzo ha a che fare con il liberismo Ha a che fare con l'efficienza E il potenziale logica Quindi credo che stia succedendo questo Adesso leggerò la notizia Quindi ringrazio l'ascoltatore Io ormai le cose italiane Mi danno appunto il mal di pancia Ma l'avevamo letto in realtà Anche durante il rassegnato stampa È legato proprio a questo È legato comunque al tentativo di sburocratizzazione Che in realtà Quando si parla di sburocratizzazione Si intende dire Togliamo dei livelli di controllo Di balzelli Di regolamenti Che di solito in realtà Sono luoghi dove c'è della gente che magna E sburocratizzare in Italia è difficile Perché tu stai toccando Dei piccoli feudi Letteralmente feudi burocratici Che sono Ricordiamolo Il primo motivo O uno dei primi motivi Per cui Per esempio in Italia Gli investimenti esteri Sono molto molto minori Rispetto a tanti altri paesi Perché quando tu hai un'azienda estera O hai un capitale estero E vuoi fare qualcosa in Italia Ti trovi di fronte a un quintuplo Del costo Rispetto a qualsiasi altro paese Mi viene in mente sempre Il discorso dell'alta velocità Signore e signori L'alta velocità in Italia E non certo per problemi Legati alla geografia Come qualcuno Ha anche avuto il coraggio di dire Ogni chilometro Costa il quintuplo Rispetto alla Francia Alla Germania Quintuplo E quelle cinque volte Tanto di costo Non sono mica legate A materiali sopraffini O professionalità Più elevate No Sono legate al fatto Che c'è in mezzo Una filiera di persone Feudi Aziende Mini aziende Micro aziende Balzelli Burocrati Che devono prendersi La propria fetta E quindi Da questo punto di vista Insomma È anche Cioè io capisco Perché poi I sindacati Si attaccano a questo E capisco perché I sindacati in Italia Sono diventati Un sistema Di protezione Di veri privilegi Burocratici Incancrediti Negli ultimi decenni Perché in realtà I tesseramenti Arrivano da lì E i finanziamenti Arrivano da lì E quindi i sindacati Proteggeranno sempre Quegli interessi Il fatto che poi La sinistra Difenda interessi Conservatori Mi fa ridere Un casino Ed è Vabbè Insomma La traccia Di uno dei tanti Problemi di questo paese Quindi Procediamo alla prossima domanda Sì che non mi sbaglio Ricchia mi ha detto Che tuo padre Ha avuto a che fare Con questo mondo Beh guarda Io Se c'è una lezione Che io ho preso Da mio padre Sono due Una è Non lavorare mai Con persone Che veramente Con cui Tu non Non volevi Lavorare Cioè non lavorare mai Con qualcuno Perché ti trovi costretto A lavorarci Questa è una cosa Una cosa fondamentale La seconda è Non avere Abbi il meno a che fare Con lo Stato Quando devi lavorare In Italia Però non posso entrare In Italia Ma insomma Sì Esperienze molto toste Se volete C'è la domanda Da un miliardo di dollari Di assalitore Che vi chiedo Un'opinione Ma ci paga Un miliardo di dollari? Sì 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 Ok allora rispondiamo Cazzo In Dogecoin però Che vi chiedo Un'opinione Sul DDL ZAN Quindi richiesta Di libertà di espressione Delle destre Paradosso della tolleranza Anche Mette questo appunto Allora Parto io Michele Parto io dai Stavolta Visto che hai risposto Tu prima Perché io Francamente Su sta storia Ho opinioni contro Allora Mettiamola così Secondo me Il DDL ZAN Non cambierà nulla In Italia Cioè È la classica legge Che non avrà Un effetto E Quindi Ho cercato di esprimermi poco Perché secondo me È Una bandiera Di una parte politica Che utilizza Un tema Importante Quello contro Le discriminazioni E le violenze Per Farsi un po' Di campagna elettorale Io questo mi sono Mi sono convinto Non è una legge Che cambierà le cose In modo In modo sensibile Capisco perché Alcuni Spingono molto È giusto È giusto perché Ci vuole Ci vuole Un po' di Riforma culturale In Italia Nei confronti Di queste diversità Che vanno protette C'è un problema Secondo me Che è un problema Anche in parte Legato a quello Che dicevamo prima Con Michele Indirente questa visione Del mondo Fra Divisione fra onesti E disonesti Questa visione del mondo Ha portato a una visione Antropologica Che per me è un po' triste Cioè l'idea che Tu per Riformare Il comportamento Delle persone Deva passare Per il lato legislativo Ora Io lo so che A una parte politica Piace tanto L'idea che La legge Possa cambiare La testa delle persone Ma non accade Non accade In realtà La legge Dovrebbe riflettere In parte Cambiamenti Che sono già avvenuti O sono in corso Cioè la legge Dovrebbe essere Riflesso Di un Modo di sentire Un modo politico Se tu hai Un modo di sentire Politico Che dice Ha E la legge Che dice Non ha Non è che la legge Cambia Il fatto che la gente Continua a sentire Ha Anzi Magari rischi Di creare Una recrudescenza Molto forte E quindi io non credo Nel sistema Che vede la legge Come educatrice La legge Non dovrebbe essere Educatrice Dovrebbe essere Qualcos'altro La legge A questo si aggiunge Il fatto che Dal mio punto di vista Il D.D.L. Zanna È una legge scritta male È una legge scritta male Per tanti motivi Perché in primo luogo Va a impattare Su un argomento Che è Molto complicato E che se andiamo a studiare Persino psicologi Hanno difficoltà A delineare In modo scientifico Perché Signore e signori Sulle questioni di genere Il dibattito scientifico È ancora Fortissimamente In corso Non è che ci sia La risposta Esatta Definitiva Qualcuno dice Eh ma sul razzismo Quella legge c'è Sì ma Bella gente Sul razzismo La scienza In qualche modo Ha già delineato Le sue risposte Il che significa Che la legge Può innestarsi Su un aspetto Che La scienza A cui la scienza Dà delle radici Sui ruoli di genere Identità di genere Linguaggi inclusivi Queste cose qua Che ci piaccia o meno La scienza Non ha ancora dato la sua risposta definitiva Ci sono ipotesi Ma scusa Posso chiedere Cosa c'entra la scienza Cioè Qual è l'argomento L'identità di genere Cioè Cioè il fatto Che una persona Che È Biologicamente un uomo Ma si sente una donna Sia riconosciuta Sia riconosciuta Come donna Riconosciuta In che senso Riconosciuta Nel senso Linguistico Per me Non c'è un problema Voglio dire No Non c'è No no Ma non c'è No no Miguel Bosè E soci Lo fanno da 30 anni Ma infatti Ma infatti Non c'è nulla di male In quel Mio figlio Mio figlio Mi ha raccontato Mi hanno fatto Un banca portata Quando aveva lui 16 anni E io Insomma Nei primi anni 2000 Ultimi anni 90 A Cueca Hemos visto esto Y el contrario Certo Certo Ma infatti È una cosa Che esiste Qual è Il problema Il problema È che Nell'ambito Dell'identità di genere C'è tutta una sfumatura Legata per esempio Alle transizioni All'uso di ormoni A tutta una serie Di cose Che impattano Molto fortemente Nella vita delle persone Su cui Un dibattito È in corso Ti faccio solo un esempio Ok Negli Stati Uniti Il dibattito in corso Su qual è l'età adatta Per cui Un bambino Può cominciare La transizione Per passare da M A F Ci sono Capisci C'è nel senso In questo tipo di Tematiche Ma a me Il decreto ZAM Pensavo avesse a che fare Con le aggravanti Ha a che fare anche con questo Sto dire Beh alla base A questo Cioè alla base Regolamenta Questo O no No Non è che va a regolamentare Non va a regolamentare Le assunzioni ormonali Oddio Capiamoci Io su questo Sono ultralibertario Nel senso Vuoi farti male Fatelo Basta che non viene a rompere i coglioni a noi Quindi uno vuole I genitori Decidono che Uno è transgender A sei anni Lo riempiono O la riempiono Di ormoni Per fargli cambiare Mi sembra Folle Ma Faccio fatica Se abbiamo Evidenza scientifica Che tutto questo Fa male Mi sembra sia Già coperto Dal fatto che Quando abbiamo Situazioni In cui i genitori Stanno danneggiando In maniera evidente Ed obiettiva Il futuro La vita La salute E tutto Del ragazzino O della ragazzina Interveniamo E fine Quindi non sono Favorito Alla posizione Estremista Che dice I figli Sono proprietà Dei genitori Punto E lo Stato Non deve mai intervenire In maniera che persone In maniera che persone Nel momento in cui nascono Assumono dei diritti Nella mia concezione Del mondo E' una di queste cose In cui è impossibile Discutere seriamente Cioè Nella mia concezione Del mondo L'individuo Ha dei diritti Potenziali Delle potenzialità Anche quando Ha sei mesi Sei giorni Per questo Ok Sono francamente Inferiori Di quello che ha 16 anni Perché c'è Un potenziale Umano Di capitale umano Psicologico E emozionale Diverso A me sembra minore Loro mi dicono Non lo puoi misurare Sono d'accordo Però siccome Devo fare delle scelte Scelgo quella lì Ma siamo veramente Nella più soggettiva Etica possibile Ci sono delle persone Che hanno una visione Tribale I figli O romana Se volete Antica I figli Sono proprietà Dei genitori Punto In che senso Lo sono totalmente Quindi I genitori Fanno quel cazzo Che vogliono Fino a che I figli Non raggiungono La maggiorità A me questa Sembra una follia Anche perché C'è una discontinuità Folle nel mondo Perchè discutere Di queste cose Arrivo Arrivo Cioè nel senso Era un ragionamento Un ragionamento Con la coda lunga Allora Ho fatto quella premessa Lì sulle scientificità Per dire una cosa Che il DDL ZAN Cos'è che va A Come dicevi tu Giustamente È una legge Che va a creare Delle aggravanti O comunque Dà delle motivazioni Ad alcune violenze Ora Se voi andate a leggere Il testo del DDL ZAN Ci sono alcune parole Che sono Che sono parole Che hanno Una sfumatura di grigio Molto molto elevata Per esempio La differenza fra propaganda E istigazione Ok Se a livello giuridico La differenza fra propaganda E istigazione In alcuni ambiti È piuttosto chiara In questo ambito Diventa molto meno chiara Perchè? Perchè io so Qual è la differenza Fra propaganda E istigazione Per esempio Su un tema razziale Di nuovo Perchè il giudice Quando va poi A determinare La fattispecie del reato Qualcuno che picchia Una persona Per la sua etnicità Sa come si applica In modo Cioè L'arbitrarietà del giudice È molto meno chiara Però vi faccio un esempio Vi faccio un esempio E poi lo discuteremo Questa settimana Proprio In una puntata Dedicata a questo Se io Domani Ho uno psicologo Che va a fare Un comizio pubblico E questo comizio pubblico Dice una cosa simile A quella che ho detto io Cioè È folle È inverosimile Che Due genitori Spingano Il proprio bambino A fare la transizione Ormonale A quell'età Perchè E aduce Dei motivi Che sono motivi Legati a Delle cose scientifiche Ecco Se una persona Che sta ascoltando Quel tipo di discorso E magari quel discorso Si tiene anche In un ambito Che è ideologicamente Molto schierato Come Boh Il family day Mettiamola così È una persona Che all'interno Di quel comizio Ascolta questa roba E dicendo questo Dice Sì vedete Ha ragione Ha ragione Ha ragione Esce E si trova di fronte Adesso sto facendo Sto facendo l'esempio assurdo Però si trova A fare una violenza Su qualcuno Che è Diciamo così Che è un trans Per esempio Che è una trans E poi Quando viene interrogato Per le motivazioni Dice E beh ma perché vedete Ho ascoltato Quella cosa lì Quel comizio Che cos'è Era istigazione Evidentemente Non era propaganda Però da un certo punto di vista Può essere anche Denominato come propaganda Perché di nuovo Si poggia su Dei saperi Che sono In corso d'opera Che sono saperi Che si costruiranno In molto tempo Perché sono saperi Ancora non Delineati In modo scientifico E ci sono C'è un dibattito In corso Quindi all'interno Il DDL Zan C'è un problema Secondo me È una legge Dalle intenzioni Corrette Perché secondo me Lo ribadisco È giusto Che ci sia Una Che qualcuno Che fa violenza Su una persona Per il suo genere Per la sua identità Di genere Abbia Abbia scritto Nella sua fedina Che l'ha fatto Per quel motivo lì Però la legge È scritta male Dal mio punto di vista È scritta male E si lascia andare Un sacco di interpretazioni Ora qual è il mio dubbio Con il DDL Zan È che Anche a detta Di alcune persone Che la sostengono La legge È scritta male Quante volte Durante il rassegnato stampa Abbiamo letto Di persone Che propugnano Il DDL Zan Dicendo Eh sì È una legge Imperfetta E poi dicono Però va approvata così Bisogna andare fino in fondo Perché se no Poi non sarà più possibile Ora Il mio dubbio È il seguente Se una persona Ci tene veramente Al fatto che Questo diventi Un qualcosa Che fa parte Della cultura italiana Dovrebbe volere In qualche modo Che la legge Sia inattaccabile Ora se persino Le persone che La propugnano Dicono che la legge È imperfetta E non hanno Cioè non hanno il momento Di dire Ok no Raga Questa roba Deve essere Deve diventare inattaccabile Perché altrimenti Tu stai dando Delle armi Devastanti Alla controparte E quella roba lì Mi sembra sinceramente Fuori di testa Quindi Quindi Di Delle Zan Va bene le intenzioni Ma secondo me Nella forma È terrificante Leggetevelo il testo Ci sono Alcune parole Alcune questioni Che rendono Ancora più difficile Chiarire il punto Oltre a tutto Questo C'è l'aspetto Che dicevo io Purtroppo È una legge In cui L'arbitrio Finale del giudice È molto forte E se tu vuoi una legge Che sia In qualche modo Inattaccabile Tu dovresti permettere Al giudice Non solo al giudice Di utilizzare Il minore arbitrio Possibile Ma anche al cittadino A priori Di sapere Con chiarezza Quali sono i limiti Di quella legge Secondo me D.D.L.Zan Questa roba Non la fa Quindi ecco Questi sono i miei dubbi Non sulle intenzioni Non sull'obiettivo Ma sul modo Con cui si è prodotta Questa cosa qua Tutto lì Mike Io davvero Su questa cosa Sarà Sarà Non me ne frega Proprio di niente No ecco Poi ecco Giustamente poi Non me ne frega Niente Allora Io ritengo Allora Mi da Siccome so Che molte delle critiche A queste cose Di parte L'ego fascista Sono pretestuose E vengono da persone Che hanno Fobia sessuali Odio per i diversi Giornate delle famiglie Su cui anche tu e io Abbiamo parlato Eccetera 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 Che decidono Che vogliono Poter discriminare Che vogliono Poter utilizzare Violenza verbale Psicologica E anche fisica Se nessuno li vede Contro Omosessuali Lesbi Anche lesbi Che sono omosessuali Trans D'ogni tipo Mi dà molto fastidio Sentirmi coinvolto Da parte di queste persone Perché di queste persone Io disprezzo Provo anche fastidio Per l'eccessiva invadenza Lo dico Da persone Che ha sempre vissuto La sessualità degli altri Con grande rispetto Fate un po' Quel diavolo Che volete Basta Che non me lo imponiate A me Ok Come io non lo impongo A voi Ho delle perversioni Notevoli E me le godo Con chi se le vuole godere E non me ne vergogno Neanche un po' Sono anche disposto A raccontarle Guarda Se non fosse Mi direbbero Vabbè che cazzo Fai pornografia Per attirare ascolti Quindi non lo faccio Solo per quello Davvero Cioè proprio E' proprio sicuro Che se io stessi a Susanna Voi che raccontiamo In pubblico Un po' Di Non c'è Anche lei Non avrebbe nessun imbarazzo Cioè proprio Oh vergogna a zero Cioè non È un problema Mica sono cose Che bisogna La professione Della buona figura Della bella figura Io non ce l'ho Me ne sbatto Sto tranquillo Con me stessa Quindi No E faccio fatica Cioè secondo me Il reato d'odio È una cosa molto complicata Non lo so Non riesco a decidere Se sia davvero Nella mia logica Di ciò che serve Il sistema penale L'aggravante Sia o non sia Il caso Infatti i meccanismi Delle aggravanti Sono veramente sottili Perché è un casino Perché c'è un tentativo Di inferenza Sugli stati mentali Delle persone E i tentativi Di inferenza Sono delle aggravanti Come dire Oggettive Se io uccido uno E poi lo mangio Lo taglio a pezzi Lo mangio Allora L'aggravante Di una violenza È ferrata Del fatto che tu sia L'autore di una cosa del genere Sia un individuo Socialmente Molto pericoloso È obiettiva Non importa quali siano Gli stati mentali Che lo porta Potrebbero essere In generale Passione Per Il cannibalismo Potrebbe essere Solo un odio Specifico Mirato Sulla persona A cui apparteneva Il corpo Che costruì Mi ha smembrato Non lo sappiamo Però è un fatto obiettivo Ok Su altri Dove il fatto obiettivo Non c'è Guardate che c'è Una letteratura In diritto penale Su questo Io credo c'è Boh Non lo so È complicato Sono molto Complicato Ma è quello Guarda È quello Semplificato Non so se sia compito Dello Stato Decidere Le motivazioni Intrinsiche Di una persona Perché È Suscettibile Di enormi errori E quindi Apre Un argomento Garantista Io non sono Notoriamente Mi sono preso Il forcaiolo Tante volte Quindi non sono Ovviamente Una persona Che verrebbe Classificata Tipicamente Come garantista Penso che anche Il garantismo Sia un'ideologia Un po' finta Io su queste cose Sono tanto pragmatico Come nelle altre Quindi Nella misura In cui non vedo Un grande guadagno Sociale E vedo Un'enorme Difficoltà Nel riuscire A giudicare In modo obiettivo Gli stati psicologici Delle persone Che compiono Certi atti Io preferisco Attenermi A ciò che è obiettivo Certo Se uno Esce Trovo che ha Picchiato Di notte Due transessuali E poi Gli trovo In tasca O nell'ispezione Di casa Quando lo arresto Testi Che diffonde O che è solo Scritto Che dicono Esplicitamente Io faccio questo Perché odio La transessualità Io lo considero Un aggravante Perché c'è una dimensione Obiettiva Se invece c'è L'amico che dice Michele è uno Che dice sempre Adesso non si può Neanche dire E siamo sul Twitch Questo è quello Perché odia Questi e quei Beh insomma Lì Devo stare un po' Più attento A considerare Un aggravante È complicatissimo Vedi È questo il punto È questo il punto E lo ribadisco Bella gente Nessuno ha Io credo che Chi dice Ah Didier Lezan Limiterà la libertà Sono cazzate Non è quello Non limiterà La libertà d'espressione Il problema È che La legge è scritta male A ammissione di chi La sta sostenendo pure Quindi mica lo dico io Leggetevi gli articoli Di gente che è stata Di gente che dice Sì sì è vero È una legge Che è scritta male Però Però Bisogna andare fino in fondo adesso Che per me È una posizione Fuori di testa Perché ricordiamoci Che questa cosa È avvenuta con tante leggi A cui Tipo non so La legge sull'eutanasia Tanta roba Che poi infatti Non è andata avanti Quindi Dal mio punto di vista Il DDL Zan E lo dico con rammarico Perché a me piacerebbe Vedere maggior rispetto Nei confronti delle persone Che hanno La loro identità sessuale La loro identità di genere Perché io sono Dalla parte di Michele Me ne frega un cazzo Di come una persona Vuol farsi chiamare Basta che tu mi dica Io voglio farmi chiamare così E io ti chiamo così Senza nessun tipo di problema La questione qua È che la legge Essendo scritta male Dà armi retoriche Alla destra Non c'è alcun dubbio Su questo E infatti Verrà utilizzata in questo modo E sarà un grande Come si suol dire Boomerang Perché quando tu Non determini In modo chiaro Quella fattispecie Di istigazione Cosa che secondo me Nella legge Non avrebbe dovuto Esserci tutto lì Cioè nel senso Non puoi In quei temi Andare a delineare In modo chiaro Un confine Fra L'istigazione Quella di chi dice Noi dobbiamo Noi dobbiamo andare A picchiare Queste persone E ti pago pure Per farlo Ok Dal comizio In cui uno Dice idee discutibili E magari Spinge O non spinge Perché non si può Ricostruire la catena Di causalità mentale Che porta poi A un atto Ne abbiamo parlato Quella volta Con il paradosso Della tolleranza Di Popper Non puoi ricostruire Quella catena causale In modo chiaro E quindi Lì lascia L'arbitro del giudice E una legge Su un tema Così delicato Che lascia sfumature Di grigio E lascia molto L'arbitro del giudice E quindi non permette Al cittadino A priori Di sapere Cosa può dire E cosa non può dire Cosa può fare Cosa non può fare Sì in realtà È una legge Fatta male Tutto lì E chi oggi Sostiene questo Questo tipo di Di divisione del mondo Che io Ripeto Sposo Assolutamente Dovrebbe volere Una legge Un po' scritta meglio Tutto lì Nient'altro Questo è quello Che penso Il D.D.L. Zan Dopodiché Non cambierà nulla Se non Darà Eventualmente Degli argomenti retorici Brutti Alle destre Omofobe Questo sì Come sempre accade Quando la legge È scritta male Andiamo alla prossima domanda Va bene Allora Cambiamo completamente Di argomento A meno che Michele non voleva Concludere O passiamo No Passiamo oltre Passiamo oltre Guarda Sarà che Sendo fuori Certo Quando un attimo Cercherò Un po' di capirlo Con quelle conoscenze limitate Di diritto penale Che ho E chiederò a qualche amico Veramente esperto Di dirmi Dal punto di vista tecnico Cosa c'è di buono Cosa non c'è Per il momento Vale quello che ho detto Insomma Vale quello che ho detto Per carità Vale quello che ho detto Va bene Ah Ma ci sono comprato Dei libri nuovi Ah sì Cos'hai comprato Eh te lo mostro Vediamo Adesso tutto reggio Quindi Una collezione Di reading Sul pragmatismo Di me Cioè Me ne posso Intimamente Ormai Qua sta diventando I libri arrivano Più rapidamente Di quanto la mia lettura Trasversale Un poeta Che ho scoperto Grazie al tuo amico Roberto Mercadini Chi è Ah ok Ok Sì l'ho sentito L'ho sentito Non credeva Non lo conoscevo E No questo ce l'avevo già Gli ho dato un'icchiata Vi raccomando di leggerlo Per il divertente Non sono detto L'autorità Edwin Nelson Il fondatore Della sociobiologia Che ha scritto l'Ibea Questo Che non avevo letto Però ho conosciuto Maurizio Bettini Abbiamo discusso Sull'utilità dei greci E dei romani Sapevo quello che faceva Avevo letto Le sue cose Sulle radici Però non avevo letto I suoi lavori professionali E questo è il suo libro Credo più importante Anthropology and Roman Culture Bello Bello E poi Sempre credo Su consiglio Sì Ma allora La conoscevo già Però mi è rivenuta Voglia di leggere Quindi ero preso L'inglese Ah sì Simborska Ed infine Forse divertirebbe a te Questo lo voglio leggere Perché ovviamente È un acquisto strano The Age of Surveillance Capitalism Di chi è? Come si chiama l'autore? Shoshana Zuboff Ah Zuboff Sì sì ho sentito una conferenza Su Ho sentito una conferenza Su Ho cominciato a leggere Ho l'impressione Che il titolo giusto Sarebbe The Age of Surveillance State Capitalism Però siccome Suppongo che Surveillance Capitalism Venda meglio Lei ha messo Capitalism Però mi sembra Più di altro Che siano cose Ma vabbè Ma vediamo Adesso vediamo Come procede Niente volevo dirlo Bene 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 Ottimo Ottimo Bella collezione Ok andiamo alla prossima domanda Ok c'era allora la domanda di Simone Piovanelli che vi ripropone una domanda vecchia che forse aveva fatto già in passato ma che non siete riusciti a rispondere E vi dice se si riuscirà mai a parlare seriamente del dibattito pubblico Di anni di psicologi agli adolescenti o in generale alla popolazione causati dalla chiusura forzata Senza essere etichettato si come negazionista O finire nella ritorica del ma ci sono stati centomila morti Quindi come si potrebbe affrontare il problema della salute mentale post lockdown? Secondo voi? Mai Ma guarda ci sarà sempre chi risponderà Ma io nell'ultimo Quando l'ultima volta che ne ho parlato ho avuto una serie di commenti che mi dicevano Eccolo E torna quello del E ma pensate ai bambini Ok cioè quindi ci sarà sempre questo atteggiamento qua Non so se si spegnerà più che altro perché Covid è anche un evento che ci ha emotivamente provati Quindi se si spegnerà si spegnerà molto tardi E oltre a questo teniamo conto che tante persone hanno speso Un bel po' della loro credibilità Nel difendere posizioni di qua o di là E quindi questo le porterà a difenderle ancora a lungo Fino a che la memoria storica eventualmente non verrà meno E Cosa vuoi? Non credo si spegnerà mai Questa è la mia risposta a riguardo Vai Michele Sono totalmente d'accordo Ne ho avuto l'esperienza proprio ieri Tant'è che ieri notte ho fatto la posizione improvvisata Perché sta cominciando un po' a deludere e entristire Tant'è che adesso ultimamente Siccome sta diventando sempre più chiaro E palese nei dati Nei comportamenti Nei risultati Che l'Italia ha buttato via L'Italia non solo l'Italia L'Italia, la Francia, la Spagna e poi anche la Germania Nei altri paesi hanno buttato via risorse, tempo eccetera Decidendo che le misure non farmaceutiche Dovevano essere repressive Adottando misure che non sono servite a nulla E probabilmente hanno fatto danno Quelli che le hanno difese ossessivamente Per ragioni ideologiche oppure anche solo di paura loro Sono una ricerca disperata di articoli scientifici Che glielo giustificano E c'è un'esplosione di gente che Non riesce a capire cos'è un argomento scientifico Si è improvvisata, ha scoperto Che sa queste cose qua E che le sa bene E non riescono a capire Che anche se sai fare due regressioni Non è detto che hai capito come funziona E si scatenano a portare evidenze E quando gli dici Guarda che quel paper lì E quell'altro e quell'altro Non dice quello che dici tu Tra l'altro A misura altre misure di lockdown E comunque ha delle stime molto dubbiose Vuoi dibatterne e si offendono Perché gli dicono No, no, devi scrivere tu un paper No, non devo scrivere un paper Non è che per ogni paper È la teoria della montagna di merda Ancora una volta al lavoro Sono stati prodotti centinaia Migliaia di paper di merda Su questa cosa Perché sono stati La quantità L'ho appena commentato con dei colleghi Ed è pazzesco Anche nella professione Su dati prodotti Nella professione è mia La quantità di paper orrendi Fatti col culo Da gente mediocre Che ha cercato di provare Questa o quella cosa Con dati Regressioni Ar argomenti risibili E spaventare il paper orrendi Per cui c'è a disposizione Guardate ve lo dico Non serve scrivere un paper Serve passare tempo A distruggere la tonnellata Di merda Che è stata La montagna Di migliaia di tonnellate Di schifo analitico Che è stato prodotto Nel ultimo anno e mezzo Da improvvisati scienziati Di questa cosa qui Che invece di stare zitti O al più dibattere pubblicamente Riflettere Per raccogliere dati Hanno scritto paper Pseudo scientifici Sostenendo tutto Il contrario di tutto Ok Mentre c'erano poche cose Che si potevano dire Quelle sì Chiare Acquisite Che mano a mano Infatti i fatti Stanno confermando Tipo L'inutilità Delle mascherine All'aperto Tanto per essere chiari No O La possibilità Di gestire Il sistema scolastico In presenza Senza fare Eccessivi danni Facendo danni Ma non eccessivi No Io Poi Poi ci sono i paper buoni Quello di Michele Battisti Mi sono Prestato a diffonderlo Perché Perché è stato bene È difficilissimo D'attaccare Quella parte Quel problema Molto Specifico Che Michele E i suoi collaboratori Studiano Cioè la diffusione Del contagio A seguito All'apertura Delle scuole Differenziata In alcune Zone Di Palermo Hai dati esatti E lo fa bene E lo vedi E ti permette Di dire Sì un effetto C'è stato Ma c'è stato Un effetto basso Adesso Discutiamo pubblicamente Questo costo Vale il beneficio Di mandare i ragazzi A scuola O no Perché qui vado Quindi La ragazza Che fa la domanda Guarda Riclo sa Perché anche lui Ha collaborato Abbiamo provato A dirlo Tra i primi No Con Gerardo Con Come si chiama Cristian Con altri amici Psichiatri Con Gerardo Abbiamo fatto Addirittura Le serate Di ascolto Che è un fatto Adesso Faranno Della retorica Adesso Ormai Io Mi dispiace Sì La colpa I genitori C'è davvero Una così Ma questi qua C'è questa informazione Questa è una Di ciaccialtronate Le diceva prima Colpevolizzando Con il suo ruolo pubblico Le coppie di ragazzi Che andavano Lo passeggio Guarda Se ci pensi Io Squallore Che neanche paragone Ok E poi Adesso Punta il dettino Sui genitori I genitori Cioè Tu Vai a salire Il ventenne Che se ne è uscito Con il moroso Con la morosa Quello che è E poi I genitori Cazzo C'entra i genitori A vent'anni Tu Che li ostraciti Pubblicamente Che gli impedisci Di andare in giro No davvero No no Sono d'accordo Sono d'accordo A ridare vendetta Capisci Sono d'accordo No no ma guarda Sì 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 Purtroppo Purtroppo Quelle posizioni lì Verranno Verranno difese Ancora a lungo Non c'è nulla da fare E vabbè Dobbiamo tenerci Un dibattito Ancora intossicato Per un bel po' di tempo Secondo me Su questi temi Andiamo alla prossima domanda Vai Fede La prossima domanda Invece La fa Teseus Che chiede Una Piccola Cosa A Boldrin In merito Alla Legittimità Della creazione Dello Stato D'Israele Quindi per fare Un po' di chiarezza Perché lui non ha ben capito Quale fosse la tua posizione Mi sembrava che fosse stata chiara Però Era chiara ragazzi Era chiara Cioè nel senso Vati a rivedere il post live Cioè Non ne hai capito la domanda Quindi in merito Alla legittimità Della creazione Dello Stato D'Israele Che non ha Teseus Non ha capito bene Quale era la tua posizione Cioè nel senso Pensavo fosse abbastanza chiara Posso dire Riascoltate il post live Perché sono state dette Tutte le cose Cioè non fateci ripetere cose Allora Posso dire La parola Legittimità È inappropriata Forse perché L'avete usato Durante la live Mi amico Lucio De Gaetano Ecco questo sì I dibattiti vanno fatti Con le parole giuste Cosa vuol dire legittimo Ci sono Svariate sensi Possiamo dare Uno legittimo La parola più giusta È all'interno Di un ordine legale Non esistono Un legale internazionale Quindi porsi la domanda È legittimo Nell'ordine legale internazionale La creazione Dello Stato D'Israele Nella forma In cui avvenne Fra 48 e 49 No Ma no Perché sia illegittimo Ma solo perché La domanda è malposta Occhio Occhio Che la risposta No Non vuol dire che è illegittimo È semplicemente Che è una domanda Insensata Esiste un atto Di guerra Misto a un atto Coloniale Misto a una dichiarazione Che poi non viene realizzata Di un organismo internazionale Che però non aveva Non era Come dire Il Parlamento La Costituzione del mondo Quindi Posta posto Problema morale Ne abbiamo discusso A bizzeffe Con Con Rick Quindi quello Non mi ci soffermo Però allora C'è una domanda Di legittimità morale E lì dipende Dai contesti morali In cui vuoi Vuoi giudicare Sul terreno Oggi Exposto Vale per Israele Quello che vale per l'euro L'euro sarà stato un errore Nel 92 Ma esiste Ha fatto del bene E oggi va difeso E tenuto in piedi E aggiustato Lo stesso vale per Israele Israele può essere O non può essere stato Un errore Una scelta politica Strategica erronea Dell'Europa Come il sostenuto A mio avviso Oggi esiste Fa del bene Fa anche del male Ma fa anche del bene E quindi va corretto E sostenuto Però la parola Legittimità È francamente Inappropria Io la vedo così Io preferisco Usare un'altra Terminologia Mi sembra Mi sembra molto coerente Con le cose Che hai detto La settimana scorsa Quindi Io non mi esprimo Perché sono ancora In fase di difficoltà Che ci penso Quella cosa Quindi faccio un po' Fatica a cambiare No certo Certo Andiamo alla prossima Non si può cambiarla L'idea Non si può cambiarla Certo Andiamo alla prossima Allora Se volete Proviamo a rispondere A questa domanda Di Nicola Sest Che dice Per quanto riguarda La burocrazia In Italia Dicono tutti Che sia un male Per l'Italia Ma alla fine Pensa che nessuno Cerca di riformarla In modo profondo E sostanziale E quindi vi chiede Secondo voi Nello specifico Quali possono essere Personaggi O gruppi di interesse Che cercano Di impedire Queste riforme Eh non ho capito Non ho capito Qual è la domanda Però Secondo me Potrebbe essere Che lui chieda Che Sembra strano Che non ci siano state Ancora Delle effettive riforme Per Semplificare la burocrazia E quindi chiede Nello specifico I personaggi O i gruppi di interesse Che cercano Di impedire Queste riforme Per semplificare La burocrazia Gli stessi Che dovrebbero Fare le riforme Quello è il problema Che c'è un Incredibile Fortissimo Conflitto di interesse Perché la burocrazia Eh Si sostiene Dovrebbe essere Riformata Proprio Dall'apparato Che viene sostenuto Da quella burocrazia Che è Che è Il sistema statale Eh Quindi in realtà È un cane Che si morde la coda È veramente Kafkiano Cioè nel senso Io Lo dico sempre Per capire La situazione italiana Con la burocrazia Bisogna leggere Il castello Di Kafka Quindi in realtà Sono vari fattori C'è il problema Della Deresponsabilizzazione Del burocrate Che peraltro Adesso si chiede Ancora di più A gran voce Non so se hai visto Michele Una cosa divertente Però c'è una proposta Di togliere La responsabilità Per danni Patrimoniali Danni erariali Quindi se qualcuno Se un burocrate Se un funzionario pubblico Crea un danno Per negligenza Il patrimonio pubblico Italiano Non dovrebbe più Essere perseguito Perché Perché in realtà O tu De responsabilizzi Gli individui Oppure Avrai Una lungaggine Infinita Nella gestione Del PNRR Perché cos'è Il ragionamento Che c'è dietro Se noi abbiamo Tanti soldi Da gestire E dobbiamo gestirli Velocemente A livello pubblico Dobbiamo Snellire la burocrazia Ma cosa vuol dire Snellire la burocrazia Significa che ci sono Degli individui Che devono prendersi Maggiormente La responsabilità Delle scelte E farle magari Anche prendendosi Dei rischi Ecco allora Che per convincere Queste persone A prendersi il rischio Devi Depenalizzare Reati Di Reati Di danno Erariale Danno Al patrimonio Pubblico Quindi insomma Lì c'è Tutta la perversione Secondo me Della macchina Burocratica Ecco Quello del danno Erariale È un casino Incredibile È un casino Incredibile È vero Guardate Il problema Il problema Il problema vero È Se ci fosse Dunque Secondo me Va Va Ci sta Il danno Erariale Se ci fosse Una maggiore Licenziabilità Dei dirigenti Pubblici Sarebbe tutto Molto più facile Sono d'accordissimo Sono d'accordissimo Il problema è che Tu avendo Delle posizioni Che sono spesso Intoccabili O li responsabilizzi Dicendo Guarda che se fai danni Vai sul penale Però in questo modo Allunghi infinitamente Le pratiche Perché uno Pur di prendersi Un rischio Tipo Rimanda Di 18 milioni Di anni Qualsiasi decisione Cioè È veramente Qualcosa di incredibile Quando ci pensi Dici Almeno dici No ok Non finisci sul penale Però vieni licenziato In tronco E sarebbe tutto Molto più facile Però Anche lì Nessuno vuole finire in galera Ma nessuno vuole neanche Perdere il posto di lavoro Andiamo con la prossima Sì Questa in realtà Non è proprio Di attualità Se volete Vai vai Facciamo l'ultima domanda E poi così ci salutiamo Ok C'era Moghino Che vuole chiedere al prof Visto che Se uno non è ferrato E volesse avere un'idea Più o meno precisa Dell'economia di un paese Quali possono essere Degli indicatori da guardare O è una domanda Un po' troppo pretenziosa Un po' lunghetta Più che altro Cioè nel senso Immagino La risposta è Non ci sono Anche perché È tutto soggettivo Cosa vuol dire Non sei abbastanza Io non sono abbastanza Afferrato sull'economia Della Tunisia Dal punto di vista mio Però Forse afferrato Dal punto di vista economico Anche intende Ma certo Ho capito che intende quello Ma Sì sì È troppo soggettivo Cioè Queste cose Come bisogna Anche imparare A Una vecchia metodo Di chi fa ricerca Bisogna porre domande Bisogna Non arrabbiate Bisogna smetterla Di porsi domande generiche Bisogna porsi domande Specifiche Certo Bisogna imparare Che Il 70% Del lavoro Della conoscenza Cioè Della prendere qualcosa Cosa consiste Nel riuscire a farsi La domanda giusta E cioè Una domanda Basata su quello Che hai capito Su termini ben definiti Rispondibile Contestabile E così via Altrimenti Fai solo casino Ti sembra di aver detto qualcosa E sei uno dei tanti guru Che hanno detto Solamente Cazzato Guarda Su questo Io sposo pienamente Per dirti Io Mensilmente Faccio Un Q&A Anche con i miei Mecenati Su Patreon Ok Che peraltro Farò questa settimana Perché Faccio sempre La fine del mese E Nel tempo Io all'inizio Quando lo facevo C'avevo un sacco di domande Del tipo Non so Cosa ne pensi Di Dostoevsky E la mia domanda Ma che cazzo Vuoi che ne pensi Cosa posso pensare Cosa pensi di Heidegger Che anche se mi sta sui coglioni Però Cioè Va studiato Va letto Va capito Perché hai detto delle cose Cioè Cose che vanno affrontate Cosa ne pensi di E io ho cominciato a dire Ok ragazzi Smettete di fare domande Del genere Cioè Quando fai una domanda Poni ti senti Il problema Di quale sentiero Stai intraprendendo Perché una domanda È già Il tentativo di scavare Verso una risposta È più generica La domanda Più Impossibile Sarà la risposta Quindi Io Sposo perfettamente Quello che ha detto Michele Che devo dire Anche è stato Fin troppo educato Cioè ha detto Non arrabbiatevi Poi è stato Incredibilmente diplomatico Perché semmai Sti ragazzini Si terrorizzano Continuamente Si incazzano Continuamente Inoltre gli dici Una cosa Non siete più abituati A un po' di scuola No è giusto invece È giusto Perché Sembrano avere Tutti dei problemi Ma che toni Ma mi ha offeso Ma mi ha aggredito Il bullismo Vabbè Ragazzi Non so cosa dirmi Io non ci trovo Niente di bullista Cioè E guardate Fa parte di quel discorso E di nuovo Non arrabbiatevi Che con Con Rick Abbiamo già fatto E che va fatto E rifatto E rifatto Ed è quel Il discorso Dell'uno vale uno E questo lo dice lei Io apprezzo Il desiderio universale Di sentirsi Tutti Intellettuali Io apprezzo Il desiderio universale Di Dico dire Di partecipare In maniera intelligente Tutti al dibattito Ok Di avere tutti qualcosa Da dire Però Devo dirvi Per avere qualcosa Intelligente Da dire sui regolamenti Bisogna metterci Un po' di fatica Certo Sì che poi Per non restare a studiare Bisogna rinunciare Alla partitella di calcio Alla discoteca Alla televisione Alla chiacchierata C'è un trade off Nella vita E quindi Per riuscire a parlare Tranquillamente Adesso Non lo dico per farne Per riuscire tranquillamente A A A A discutere Di situazione palestinese Come abbiamo fatto L'altro giorno La settimana scorsa Bisogna aver dedicato Alcune centinaia di ore Alla della propria vita A studiarsi i fatti Poi ci sono quelli Sciocchini Che sono venuti A A A ricordarmi Che Che mi scordavo E me lo scordo anche tuttora Perché io c'ho questo programma Con i nomi Perché la spartizione È stata fatta appunto Dall'inglese con la S E dal francese con la P Perché no È schiotto Come cazzo si chiamano Lì Mi discordo sempre O che Non mi ricordo se io O O O O O O O Abbiamo detto L'accordo C'era anche sotto L'accordo C'erano degli accordi Precisico A Roccia e le compagnie questi sono dettagli che indicano proprio un approccio bignamistico alla conoscenza bisogna togliersi l'approccio bignamistico alla conoscenza e però accettare che la conoscenza dei problemi e quindi anche la capacità di porre le domande in maniera adeguata è frutto di fatica se non si vuole fare la fatica e si vuole la risposta pronta allora mi dispiace, non si ottiene a me guarda, ne ho parlato proprio ieri durante la cogitata con Andrea Biasci ormai io valuto sempre molto quanta fatica ha portato a scrivere un certo tipo di commento, quanto è elaborato in che piattaforma si trova e via dicendo perché purtroppo una delle cose dell'uno vale uno che su internet ha fatto un sacco di danni che ci ha dato tante opportunità perché io il canale youtube l'ho potuto aprire perché alla fine anche uno vale uno e poi mi sono costruito una credibilità però poi a un certo punto valgono le credibilità e non il fatto semplicemente che hai due polmoni e respiri il fatto è che va valutata quella roba lì e devi tornare a richiedere fatica quindi per le prossime domande risposte mi raccomando ricordatevi sempre della fatica dietro le domande se fate fatica a fare la domanda allora è una domanda che forse può portare a qualcosa se invece è una domanda che non vi ha portato a un minimo di fatica significa che probabilmente è una domanda posta male sì sono anche convinto che più generale la domanda più finta è la curiosità che tu hai sulla risposta anche quello c'è una domanda che fai perché non ti costa nulla farla non ti costa nulla esatto non ti costa nulla farla invece la domanda deve costare ragazzi se non costa la domanda vale poco vale poco si lavora e si fatica per il daily cogito e la ortica partita partita la domandita partita bene 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 tu mi mando spesso la gente a cagare esattamente esattamente io direi che ci siamo noi dobbiamo scappare bella gente vedevo vedevo soltanto perché avevo chiesto un chiarimento vale che dice che per il ddl zan non basterebbe per il rispetto del ddl zan l'articolo 3 della costituzione bisogna bisogna vedere ripeto c'è un dibattito in corso lo vedremo lo vedremo magari lo discutiamo quando avremo qua anche un giurista a parlarne e basta direi che ci siamo quindi grazie mille per averci seguito grazie mike per questa scorribanda domandosa grazie mike grazie a voi ragazzi è sempre un piacere buona serata a tutti fate i bravi buona domenica aspetta no prima di andare scusatemi prima di andarvene domani abbiamo ospite qui Matteo Flora quindi dai Cogito Studios l'ottimo Matteo Flora non vedo l'ora perché non lo vedo da due anni fisicamente quindi sarà un piacere averlo qua e quindi insomma da non perdere e ovviamente ricominciamo anche con il rassegnato stampa alle 12 una settimana piena di roba domani mattina esce la newsletter così vedete tutta l'agenda mi raccomando ciao a tutti buona serata ciao 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 ciao